ciao ragazzi buongiorno eccomi ritornata con un blog mamma la vita che non facevo un blog però stamattina mi è venuta l'idea perché sono solo a casa in pratica fino alle 3 e mezza 4 starò solo io a casa no fino alle 3 starò solo io a casa non avrò ospite non devo fare terapia quindi vabbè dai ora mai più oggi è giovedì 2 dicembre siamo pronti al countdown per natale infatti già vedete dietro dopo vi faccio vedere bene già io ho addobbato in pratica già da quasi 15 giorni ho già fatto l'albero e tutto e niente saremo un po insieme io devo pulire devo cucinare e niente quindi mi farete un po compagnia spero che comunque vi faccia piacere io sono sveglia da un'ora però tranquilla io quando non c'è niente da fare non è che metto le sveglie che mi sveglio mi sveglio sono sveglia dalle 11 meno 10 più o meno ho fatto colazione così caffè in primis perché se non mi sveglio ho fatto colazione e niente adesso mi devo cucinare il pranzo oggi a pranzo sono le uova con le carote mi devo assolutamente fare le carote perché le faccio al vapore col bimbi devo fare il letto devo pulire la stanza da letto devo sistemare la stanzetta devo piegare questi panni che stanno qua e niente quindi sono da fare e staremo insieme va bene quindi prossimamente su questi schermi ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti